Nonostante la buona prestazione di squadra, il risultato ha sorriso agli ospiti. Sì, diciamo che non siamo stati bravi a chiuderla nel primo tempo, perché abbiamo avuto parte del rigore di Juan, poi abbiamo avuto altre due occasioni con sempre Juan e Zac, e noi poi il secondo tempo, alla prima occasione che abbiamo concesso, ci abbiamo rimesso. Però penso che dobbiamo, da questa partita, trarre delle buone cose, continueremo a lavorare e poi vediamo se saremo pronti a inizio l'ampionato. L'impressione di molti da ditta lavori è una squadra comunque già brillante, già tonica, a cui manca magari qualche ritocco anche a livello numerico per trovare la quadra giusta. Sì, diciamo che come squadra siamo diventati subito gruppo, siamo tutti affiatati. Certo, con l'innesto di altri due o tre giocatori, penso che in questo campionato possiamo fare bene. Penso che la Pistoiese abbia disputato un'ottima gara. Siamo dispiaciuti solo del risultato. Il gruppo ha offerto davvero una prestazione che ci fa ben sperare. È un gruppo che sta lavorando in maniera importante. Siamo davvero soddisfatti. Ripeto, siamo solo dispiaciuti per il risultato. Secondo impegno di Coppa Italia della Serie C, seconda vittoria, conseguente passaggio del turno. È soddisfatto di quanto fatto dal suo Ponte d'Era stasera? Sì, è soddisfatto per il passaggio del turno, perché comunque ci tenevamo a passare il turno, anche perché ci dà la possibilità poi di giocare altre partite e di vedere anche altri ragazzi che magari durante il campionato staranno fuori. Della partita potevamo far meglio. Al primo tempo abbiamo sofferto molto, secondo me, la velocità, la rapidità della Pistoiese. Soprattutto in mezzo al campo abbiamo fatto fatica. Poi lo schieramento della Pistoiese ci ha un po' messo in difficoltà nella parte iniziale. Non ce l'aspettavamo, quindi abbiamo messo un po' a posto le cose. Nel primo tempo siamo andati un po' meglio, però nel primo tempo sia dal punto di vista tattico che anche di corsa abbiamo sofferto un po' e sicuramente in alcune situazioni siamo stati anche fortunati. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo avuto anche qualche occasione. Però ci sono cose da rivedere e soprattutto anche l'aspetto fisico è importante. Però in questi ultimi tre giorni abbiamo ancora lavorato, quindi ci stava di soffrire un po' stasera. e insomma auguriamoci domenica di migliorare un po' anche la condizione fisica.